Oggi è una giornata importante per la città di Ragusa perché il verde pubblico assume un significato di straordinaria importanza dentro un progetto di rigenerazione urbana, dentro un progetto di centro storico. Oggi l'ex scalomerci si riempie di verde, si riempie di green, si riempie dentro una visione di mondo che per contrastare la crisi climatica e la crisi ambientale ha bisogno di questi piccoli e grandi gesti. Dentro il centro storico un verde che assume un significato di aggregazione sociale, di incentivazione e anche di invito ad investire e perché no anche di venire a vivere nuovamente nel centro storico. È una giornata molto importante perché l'amministrazione, questo è stato uno dei motivi per cui mi ha spinto ad aderire anche al suo progetto, c'è tanto verde pubblico. Quindi alla polemica dei pini tagliati rispondiamo con un nuovo parco pubblico e questa notizia la corrediamo anche di questa splendida, importante riconferma della bandiera blu. Quindi sia nelle fasce costiere ma sia dentro anche il centro storico c'è una politica di sostenibilità ambientale intelligente, green, smart, che rimette al centro le persone, le famiglie e le imprese.